Ciao a tutti cari amici, io e lui siamo felicissimi perché finalmente avremo la possibilità di vederci e di conoscerci tutti insieme e passare due splendide giornate. Come avrete potuto intuire dal titolo del video sarò a Decma e precisamente in data venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre. Allora venerdì mi potrete trovare allo stand di moto.it dalle 3 alle 5 dove farò un'intervista affiancata a Nico Cerighini e quindi se voi volete venire e avete qualche domanda da farmi o da farci a me o a lui venite pure, insomma vi rispondiamo a tutto e non vedo l'ora di conoscervi quindi possiamo anche cogliere questa occasione per conoscerci e potete farmi tutte le domande che volete. Mentre sabato 12 novembre vi potrete trovare per la prima volta in azione sulla moto. Una gran figata, infatti dovrò fare una gara, a questa gara poi parteciperanno altri personaggi famosi tra cui Ringo, Mariano Di Vaio, tester di Insella, di Moto.it, insomma un sacco di gente, ragazze che fanno motocross. Ci divertiremo tantissimo. Le prove libere avranno inizio all'una e mezza nel piazzale centrale e la gara principale, il main event, sarà alle 2.40 circa. Quindi vi aspetto numerosi, mi raccomando, vi voglio sentire e voglio vedere i cartelloni con scritto Forza Pirillo o V... Come sa, ce la metto tutta e spero di vincere. E mi raccomando, vi voglio vedere numerosi, voglio vedervi fare il tifo, vi voglio vedere allo standimoto.it con mille domande da farmi. Così finalmente, una volta perdute, ci conosciamo. Ciao amici!